Un piano studiato con cura, tagliare i tubi di casa, rientrare nella propria abitazione e togliersi la vita. Solo la prontezza di riflessi del figlio ha fatto in modo che questa sia solo una strage sfiorata. Tutto nasce nella notte tra lunedì e martedì. L'uomo, idraulico 49enne, da tempo separato dalla moglie, si presenta sotto casa della donna, si avvicina a un tubo del gas e lo piega. La donna si accorge della sua presenza e chiama i carabinieri. I militari arrivano, lo identificano. L'uomo pare andarsene. Invece poco dopo ritorna e fora il tubo del gas. A sentire rumori strani, a notare il padre, questa volta il figlio, che pronto ricontatta immediatamente il 112. Scoperto l'idraulico si allontana. I carabinieri, tornati sul posto, chiamano i vigili del fuoco per la sistemazione del tubo e avvertono il PM di turno che dispone l'arresto e la perquisizione della casa dell'idraulico. Qui i militari trovano un biglietto con le sue ultime volontà e un capio pronto. Dell'uomo però nessuna traccia. Il 49enne è stato rintracciato e arrestato. Per lui il giudice ha disposto la custodia cautelare in carcere.